Dunque le due organizzazioni sindacali chiedono un incontro gente-regione che si apra anche un'avvertenza anche per il tema del CMP di Sesto. Sì, il CMP di Sesto ormai è un punto caldo per noi, la riorganizzazione prevista dall'azienda già da un paio d'anni ha previsto un notevole taglio. In questi ultimi due anni, il 2014 e il 2015, siamo riusciti a contenere le perdite grazie anche all'intervento della politica e questo infatti è il motivo per cui siamo qui oggi anche a chiedere un continuare su questa strada. Purtroppo non abbiamo garanzie per il futuro al di là dei buoni risultati attuali, ci preoccupa molto non avere una certezza sul numero e sui tempi e quindi continuiamo sulla nostra strada di sensibilizzazione perché è importante avere un polo produttivo in Toscana e a Firenze.